Dunque, Gogol. Su Gogol voi troverete materiali biografici sulla sua produzione in generale, sul suo stile, soprattutto lo stile che riguarda le anime morte e i racconti di Pietro Burgolo, lo troverete nei passaggi dedicati a lui nel manuale e molte cose, soprattutto interpretazioni di testi proprio dalle anime morte, li sentirete nelle lezioni registrate. Noi qui oggi e nelle lezioni successive che faremo ci occuperemo di un testo che invece non ho mai affrontato in quelle lezioni e che è trattato in modo abbastanza superficiale anche nel capitolo su Gogol del manuale, ossia il romanzo storico Taras Bulba. Io farò qualche riferimento alle lezioni registrate nell'aula Klaur e al manuale, ma naturalmente non posso ripetermi più di tanto perché ci sono tante altre cose da dire e diversi testi che leggeremo insieme, non vi preoccupate, so che il vostro russo ancora non è a livello altissimo, quindi ogni brano sarà letto, interpretato come si deve, non vi preoccupate anche di un'altra cosa, queste non sono lezioni di lingua russa, ma di letteratura, quindi io naturalmente farò dei riferimenti alla grammatica, alla struttura grammaticale, allo stile dei testi, ma all'esame non, anche per farvi notare magari delle parole utili che dovete, che meglio che vi segnate, perché comunque la lingua di Gogol, di Pushkin, è una lingua bellissima, molto diversa, anche più profonda rispetto, più ricca rispetto a quella che impariamo, che impariamo all'università, quella della quotidianità, però all'esame io non vi chiederò cose di grammatica, insomma chiederò soltanto che riconosciate il testo e facciate un inquadramento. Comunque, il problema principale di Gogol, lo leggerete nel manuale e lo sentirete nelle lezioni di Sulklaur, uno degli aspetti principali della sua produzione letteraria è quella della sua visione del mondo, è quella di vedere il mondo moderno come il regno della disgregazione, è un mondo in piena decadenza, un mondo dominato dall'egoismo, dove non solo la società è frantumata e tenuta insieme solo da regole meccaniche, voi vedrete quando leggerete i racconti di Pietroburgo, il naso, il cappotto, che la società che viene rappresentata è fatta di individui del tutto incomunicanti fra loro e tenuti insieme solo da regole burocratiche, da una oppressione, una cappa oppressiva della burocrazia, del potere politico, una società quindi terribile, senza autentici legami interni che la tengano insieme, addirittura l'uomo moderno, l'essere umano, la persona moderna è disgregata anche al suo interno, noi vediamo circolare per il Nevsky Praspietto di Pietroburgo, non esseri umani ma abiti, acconciature, l'uomo è come disgregato nei suoi elementi costitutivi, fisiognomici, esteriori, il naso si stacca dal volto in uno dei racconti, il naso che tra l'altro vedrete è anche una sorta di metafora fallica, l'uomo viene quindi castrato, viene ridotto a feci, pensate al nome del protagonista del cappotto, a kaki, a kakievich, il verbo kakach in russo ha lo stesso significato che ha il suo omologo italiano. L'uomo moderno è in via di dissoluzione e Gogol, la tragedia della creazione di questo grandissimo scrittore è quella di cercare in tutti i modi una via d'uscita, una via d'uscita, prospettare attraverso le sue opere una denuncia di questo stato delle cose e dall'altra parte cercare in qualche modo una via d'uscita, questo porterà a numerosi paradossi, io faccio questa piccola introduzione perché è impossibile parlare di Taras Bulba che è a sua volta un'opera apparentemente semplice ma in realtà molto paradossale, molto ambigua, da una parte, quindi è necessario fare una piccola introduzione, da una parte mostrare la società, lui mostra la società come in preda alla disgregazione, questo lo portò a venire a essere considerato dalla critica letteraria, diciamo progressista, democratica del suo tempo, il suo tempo quindi fine anni 30 e anni 40 dell'ottocento come uno scrittore progressista, democratico, uno scrittore che protesta contro il regime oppressivo dell'impero russo, uno scrittore che prende le parti del piccolo uomo schiacciato da questo potere, da questa società cinica, uno scrittore tra virgolette potremmo dire di sinistra, mentre in realtà lui non lo era affatto, non aveva per niente quello in mente e questo lo porterà poi a scontrarsi con uno, col più grande di questi critici letterari progressisti, Vissarion Bielinski, in uno scambio di lettere molto violento, quando venne fuori che in realtà Gogol non poneva la questione in questi termini. Come sentirete nelle lezioni registrate nelle anime morte che è un terribile dipinto della disgregazione umana, già solo il titolo che è ambiguo naturalmente, le anime morte sono anime, sono i servi della gleba, venivano chiamati anime morte perché il protagonista va in giro a fare incetta di servi della gleba deceduti per una serie di motivi che scoprirete, ma anime morte è anche nel senso di un mondo vissuto come da fantasmi, da persone morte dentro, e a tutti era chiara questa ambiguità del titolo delle anime morte, ma in questo testo che addirittura nello stile letterario, che confina con l'assurdo, col controsenso a volte, sempre molto paradossale, ci vuole mostrare la disgregazione della società, c'è una invocazione alla Russe, la Russe che è il primo nome storico dato alla Russia, la Russe di Kiev nel X secolo, quindi una sorta di Russia metastorica, sovrastorica, un'invocazione dove Gogol descrive la Russe come una sorta di campo piatto, di tabula rasa sulla quale però può nascere, potenzialmente può nascere qualsiasi cosa, proprio il suo essere vuota, il suo essere un deserto, che viene tra l'altro paragonata agli paesaggi italiani, anche i paesaggi proprio della Campania di allora, la natura, la cultura, le costruzioni dell'uomo, l'arte, proprio questo suo essere un nulla, la può portare a diventare un ventre generatore di qualsiasi cosa. Vedete che Gogol funziona sempre per paradossi, una sorta di visione profetica sul futuro. Dall'altra, Gogol guarda anche indietro. In realtà il suo ideale, mi ho detto molti contemporanei pensavano che lui fosse un democratico, sia guardasse per esempio alla politica occidentale, alle rivoluzioni liberali, alla democrazia occidentale come un modello, quindi un progresso di tipo proprio politico in senso democratico. In realtà il modello di Gogol era più, semmai, orientato all'indietro. All'indietro Gogol ha sempre una fortissima nostalgia per uno stato armonico dell'uomo che lui identifica con le culture primitive, barbariche, con gli stati primordiali della società umana. Di qui il suo grande amore, per esempio, per i poemi omerici, di qui il fascino che lui prova per la Roma dei papi. Naturalmente la Roma dove lui ha vissuto a lungo, tra l'altro, la Roma ancora papalina, quindi una società estremamente arcaica e regressiva, reazionaria rispetto alla Francia del tempo, all'Inghilterra, ai paesi più progrediti. Lui vede per esempio nella plebe della Roma dei papi un ideale di armonia culturale, antropologica e si pone a Gogol il compito di mostrare, proprio per antitesi all'uomo moderno, che lui manifesta per esempio nei racconti di Pietroburgo e nelle anime morte, mostrare l'ideale umano, antropologico, in un romanzo storico, andando a scavare negli strati che lui considera più arcaici, originari, immediati, vergini, spontanei della, chiamiamola così, civilizzazione russa. Gogol, anche se Taras Bulba è ambientato nell'attuale Ucraina, Gogol non fa differenza tra questi popoli. Lui stesso era ucraino di origine, ma lui si definiva se stesso un piccolo russo, come si chiamava l'Ucraina di allora. Naturalmente una cosa oggi politicamente inaccettabile, però così ragionava Gogol. E lui va a isolare in questo romanzo storico il mondo dei cosacchi, dei cosacchi dell'Ucraina di allora. In realtà questo allora non è molto chiaro, perché un'altra particolarità di Gogol, Gogol descrive sempre nei suoi romanzi la temporalità non è mai molto determinata, definita. Lui dipinge quadri dove si mescolano in modo anche un po' anacronistico elementi di epoche diverse. Questo avviene anche nelle anime morte, che pure sembrerebbe un testo comunque ambientato nella contemporaneità di Gogol, molto realistico su tante cose, molto schiacciato sulla quotidianità. In realtà ci sono cose di decenni diversi, non è molto chiaro il quando esatto. Questo tanto più avviene in Tarasbulba, dove c'è questa epopea dei cosacchi ucraini contro i polacchi, fondamentalmente contro la dominazione polacca, si mescolano episodi che vengono dal XV, XVI, XVII secolo, anche se la maggior parte dei dati più o meno riconoscibili ineriscono al XVII secolo. A Gogol non interessa offrire un quadro filologicamente storicamente esatto. Interessa creare un quadro vivido, un quadro significativo, evocativo, suggestivo. Tra l'altro, come scoprirete leggendo questo straordinario scrittore, Gogol ha una profonda sensibilità pittorica, l'elemento pittorico, l'impulso a dipingere scene proprio suggestive, visivamente, vivide, attraverso le parole, in lui è sempre molto, molto, molto forte. Una cosa che, per esempio, in Pushkin noi non troviamo. Intanto una cosa, visto che ho parlato dei cosacchi, se qualcuno di voi ha già cominciato a sentire le lezioni registrate, cosa che io vi consiglio di fare, soprattutto quelle di argomento, le prime dieci, tipo, poi avrete anche quelle su Gogol eventualmente, ma le prime dieci lezioni registrate che sono di argomento storico, storico-culturale, molte cose che noi diremo a lezione vi risulteranno certamente più chiare. Quindi, se non l'avete ancora fatto, di qui alla prossima lezione, passeranno comunque diversi giorni, potreste cominciare a sentire qualcosa. Se qualcuno di voi l'ha già fatto, magari mi sa dire chi sono i cosacchi, esattamente. Cosa sono i cosacchi? Qualcuno me lo sa dire? De Carlo, vedo che hai alzato la mano. Erano i contattini guerrieri. Bene, bene. Hai sentito la lezione registrata? Sì. Brava, complimenti. Secondo me è giusto fare così, non perché ci tenga io, è semplicemente perché è chiaro che poi a lezione, io non posso ripetere tutto quello che ho detto lì, perché non avrebbe senso, capite, potete contestualizzare molto meglio certe cose. Qualche parola in più, magari, sui cosacchi, che la vostra collega, giustamente, ha definito contadini guerrieri, forse è necessario dire qualcosina in più, i cosacchi come gruppi non sono una classe sociale, non sono neanche un popolo, un etnos interno all'impero russo, sono una via di mezzo, vengono definiti a volte un sub-etnos, qualcosa, una comunità, che hanno qualcosa, qualche elemento dell'etnos a parte e qualcosa invece del ceto sociale, quasi addirittura di casta sociale. Chi sono? Per chiarire cosa intendo dire. I cosacchi discendono da comunità di contadini fuggiaschi, fuggiti dalle regioni centrali della Moscovia, ai tempi di Ivan il Terribile, come sentirete, ascoltando le lezioni, Ivan il conduce molte guerre molto dispendiose e deve, sia lui che coloro che combattono per lui, devono finanziare queste guerre in mancanza di denaro, perché era un paese dove circolava poco denaro, devono finanziare le guerre aggravando in modo fortissimo lo sfruttamento delle masse contadine, che ricordiamolo ai tempi erano non ancora del tutto sottoposte alle servitù della gleba, ma praticamente ormai mancava poco, sarebbero state totalmente rese servi della gleba, sottoposte alla servitù della gleba, proprio all'inizio, fine 500, inizio 600. Cosa fanno i contadini? I contadini hanno troppi padroni, devono mantenere troppa gente, e scappano dalle tenute in cui sono tenuti a forza, scappano dove? Scappano verso le zone di confine, le zone di confine di questo stato che si stava espandendo velocemente, quindi c'erano molte aree dove erano ancora un po' terra di nessuno e il potere centrale si sentiva ancora poco, quindi vanno verso i confini, non a caso non li troviamo in tutte le zone che erano di confine ai tempi di Ivan il Terribile e nel periodo immediatamente successivo, quindi gli Urali, da cui tra l'altro vedrete quando leggerete la figlia del capitano di Pushkin, derivava Imelian Pugaciov, grande ribelle dell'epoca di Caterina II, e lui stesso un cosacco, lui stesso un cosacco degli Urali. I cosacchi stanno nel Caucaso, nel Caucaso del nord, i cosacchi stanno nell'area del Don, del fiume Don, sud della Russia, i cosacchi stanno in Ucraina, la comunità ucraina di cosacchi è detta degli Zaporozhzi, da Zaporozhie, ossia al di là delle chiuse, delle chiuse di un fiume, chiaramente, delle chiuse del fiume Dniepr, erano quindi insediati oltre il Dniepr, era una zona che era passata nei secoli di mano in mano, spesso fra Moscovia e Polonia, contadini guerrieri abbiamo detto, sì, erano considerati, loro praticavano l'agricoltura, ma non erano sottoposti alla servitù della gleba, non avevano padroni, avevano quindi una struttura sociale di piccoli agricoltori liberi, organizzati in comunità che quando, naturalmente, stando sui confini dell'impero, loro praticamente stipulano una sorta di accordo con gli zar, tu non ci imponi le tasse, non ci imponi padroni, ci consideri comunità libera e noi, quando è necessario, combattiamo in tuo nome contro i nemici, visto che siamo situati sui confini. Ecco perché si chiamano contadini guerrieri, in tempo di pace si coltiva la terra, in tempo di guerra ci si riunisce in accampamenti militari creati ad hoc, oppure in cittadine che costituiscono un po' il centro dove ci si riunisce per creare le unità militari e si va in guerra, ma sempre comunque da uomini liberi, quindi le comunità in tempo di guerra si scelgono i propri capi, votano tra loro i propri capi, il capo supremo è latamano, che è una parola di origine tartare in realtà, scelgono il proprio latamano e vanno in guerra. Uno di questi episodi guerreschi è narrato in Taras Bulba. Vedete che come tipologia umana i cosacchi erano perfetti per questa operazione, diciamo, di idealizzazione di un passato armonico, integro, epico, se vogliamo, di una Russia idealizzata, da contrapporre alla Russia contemporanea. Vedete perché dico che Gogol non era propriamente uno scrittore democratico e progressista. Progressista vuol dire guardare l'ideale in un futuro, lui vede un futuro di progresso, lui vedeva l'ideale nel passato, nel passato di questi cosacchi che come li descrive lui naturalmente non sono mai esistiti, sono fortemente idealizzati o almeno lo vogliono essere nelle intenzioni di Gogol. Poi vedremo come la rappresentazione dei cosacchi, degli Zaporizzi, sia in realtà molto ambigui e molto contraddittori, anche al di là delle intenzioni dello stesso Gogol. Noto che Taras Bulba è l'eroe principale, uno dei condottieri dei cosacchi contro la Polonia, come personaggio storico non è mai esistito, è modellato naturalmente sull'immagine di vari atamani di quei secoli, quindi abbiamo detto sedicesimo, diciassettesimo, e anche lui è una figura fortemente idealizzata. Intanto parliamo un po' dello stile di quest'opera che, come ho detto, apparentemente, soprattutto se letta in traduzione, leggere in traduzione Gogol è come direbbe mia madre è come mangiare la caramella con la carta, insomma non si perde veramente tantissimo il gusto e anche la percezione proprio che passa molto attraverso lo stile, molto attraverso la lingua. Questo per la verità vale anche per Pushkin, ma in Gogol si vede in modo particolare. Parliamo un po' dello stile di quest'opera. Gogol non nasce narratore storico dal nulla. Scrivere un romanzo storico bisogna trovare lo stile adeguato e Gogol è uno abituato a crearsi da solo gli strumenti espressivi, certo prendendo anche degli elementi da altri scrittori precedenti, ma è abituato a farsi le cose in casa, a costruirsi il suo stile personale senza prendere modelli pronti. Romanzo storico ai tempi di Gogol voleva dire soprattutto quale autore, non sto parlando di autori russi, anni 30 dell'ottocento, qual era l'autore, il romanziere storico per eccellenza? Ragazzi dai, Walter Scott, eh sì ma che Dostoyevsky, no poverino, non ha mai scritto romanzi storici, non ci pensava nemmeno, semmai Tolstoi, ecco lui sì, però Tolstoi è venuto molto dopo. Tolstoi quando Gogol scrive Taras Bulba è ancora nel girello che gioca con le formelline, quindi non... sto parlando di Walter Scott naturalmente, Walter Scott, ma e all'inizio Gogol prova a scrivere qualcosa proprio col titolo di Latamano, prova a scrivere nello stile di Walter Scott, però non gli piace, non gli riesce, gli sembra una cosa un po' meccanica, un po' superficiale, non corrisponde a quello che voleva lui, lui voleva scrivere un epos, qualcosa di epico, qualcosa, semmai che ricordasse l'Iliade, tra l'altro lui è molto influenzato da una traduzione, per lui recente, che era stata fatta non molti anni prima, dell'Iliade in russo, che a lui era piaciuta tantissimo, così come anche l'Odissea tradotta anch'essa abbastanza di recente, si ispirava a quei modelli lì, naturalmente però non poteva ispirarsi direttamente all'Iliade che è un poema, quindi non andava bene. Comincia, qui intanto di cosa poteva disporre il Gogol, siamo nel 33-34, quindi lui era ancora abbastanza agli inizi della sua carriera letteraria, lui aveva scritto un ciclo di racconti magico, fiabeschi, fantastici, ambientati proprio nelle sue terre di origine in Ucraina, dove la fa da padrone il folclore ucraino, e naturalmente lui quindi l'elemento popolare, folclorico, certamente lui lo mette nella scatola degli attrezzi, anche per il suo romanzo storico, non c'è tantissimo folclore proprio in senso stretto, però c'è molta Ucraina, ci sono molte descrizioni paesaggistiche, sempre di tipo un po' magico fiabesco, non è un magico esplicito. Gogol è uno che spesso usa la magia nei raccogli, la magia quella proprio con i fantasmi, con gli stregoni, però a volte per lui la magia sconfina nella descrizione fiabesca dei paesaggi, vedremo qualcosa in questo senso, o può sconfinare nel grottesco, questo non avviene in Taras Bulba, avviene per esempio nei racconti di Pietro Burgo, quindi un elemento magico che però non è più magico in senso proprio, ma diventa grottesco quotidiano, a volte anche comico grottesco. C'è quindi questo elemento un po' sognante, fatato, soprattutto nei paesaggi. Poi Gogol si era provato anche nel racconto, noi potremmo definire racconto dell'orrore, il racconto gotico, con prove in realtà alcune delle quali erano uscite, altre no, abbiamo l'elemento gotico un po' orrorifico, l'idea del, per esempio, dell'eroe sottoposto a torture, perseguitato, e anche questo viene introdotto nel, verrà introdotto poi in Taras Bulba. Abbiamo poi l'elemento dell'idillio, l'elemento dell'idillio del personaggio meschino, modesto, qualcosa dell'idillio verrà introdotto, anche questo. Vedete che è un po' una sorta di minestrone stilistico, che poi noi quando leggeremo dei brani noi ne percepiamo l'unità generale, però viene da tante cose. E poi l'elemento della ballata. La ballata in genere parla di un amore tragico, la ballata in genere poetico, naturalmente, molto in voga ai tempi di Gogol, l'idea dell'amore tragico, dell'amore finito male, l'amore impossibile finito male. E questo avrà un'importanza molto forte, almeno in una serie di scene di Taras Bulba. Quindi abbiamo selezionato alcuni elementi da cui nel 1834 nasce una prima versione, pubblicata poi nel 35, di questo romanzo storico. Come ho detto, non è particolarmente fedele proprio al dato storico. D'altra parte, Gogol lo aveva detto esplicitamente. Io ho letto le antiche storie del mio popolo, ma non mi interessano per questa o quella data, questo o quel personaggio reale. Mi interessano per le cronache, i canti popolari, i canti storici, le leggende. Mi interessano per cavarne lo spirito, lo spirito popolare. Per ora, comunque, è abbastanza, in primo piano, l'aspetto propriamente storico. Poi, Gogol farà una seconda versione, lunga quasi il doppio, di un rimaneggiamento molto più lungo, molto più arricchito, di Taras Bulba, pubblicata nel 1842, dove appariranno con più forza anche elementi diversi dall'epos storico propriamente detto. Quindi, per esempio, l'elemento lirico, questo fantastico, soprattutto nella descrizione dei paesaggi dove la natura sembra animata, elementi della ballata, l'amore tragico, eccetera. Qualcosa sui caratteri. I caratteri principali, in realtà, sono pochi. Sono fondamentalmente tre. quello di, dello stesso, Taras Bulba, e dei suoi figli, Ostap e Andri. E con l'incontro tra questi tre personaggi, c'è anche la madre, ma la madre verrà abbandonata di lì a poco per andare prima alla capitale dei cosacchi, la Siech. Siech è così definita questo accampamento guerresco, cittadella, fortino, cittadina. Vedremo nella sua rappresentazione, ricordo un po' il villaggio dei Galli di Asterix, un po' come tipologia. questi tre personaggi, quindi un triangolo costruito dal padre e dai due figli, alle cui spalle abbiamo una sorta di coro, come il coro nella tragedia greca, la comunità dei cosacchi, sullo sfondo, naturalmente alcuni di loro vengono nominati, entrano anche in gioco, ma appaiono come emergono un attimo dal flusso del racconto, vengono illuminati dal proiettore, proprio dalla luce, in un'azione, in genere, di tipo eroico, di tipo guerresco, o di tipo comico, invece. C'è anche molto elemento comico, umoristico, e poi spariscono di nuovo, inghiottiti da questa sorta di sfondo. In Taras Bulba, nel personaggio di Taras Bulba, l'elemento comico, che non è comico grottesco, attenzione, come è invece nelle anime morte e nei racconti di Pietroburgo, un comico grottesco, malevolo, inquietante, perché è un comico che vuole descrivere la meschinità del mondo in cui viviamo. È un comico buonario, che manifesta invece allegria, questa idea di Gogol, per Gogol l'allegria, quello che lui chiama proprio il riso, il riso, smiech, smiech in russo, il riso è la cartina di tornasole. Lui è come se il riso manifestasse sempre, fosse uno specchio nel quale si vede, si manifesta l'essenza antropologica di una persona o l'essenza di una società. Se il riso diventa triste, diventa trascolore di tragicità, diventa grottesco, allora noi siamo in presenza di una società che non funziona o di un personaggio che si sta disgregando. Questo lo vedremo, per esempio, lo vedrò con i vostri colleghi con i quali leggeremo e studieremo la commedia di Gogol, il revisore, o ispettore generale in russo, revisor, dove il riso, e questo lo dice proprio Gogol che si autointerpreta molto riguardo al revisore, abbiamo molti testi dove Gogol parla del revisore e dei significati da dargli, mentre non ne abbiamo per quanto riguarda Tarasbulba, lì proprio c'è questo riso, lui c'è il riso che appare attraverso le lacrime, il riso visibile dietro cui si nascondono lacrime invisibili, quello è il riso del revisore, un riso che vuole essere purificatore per i peccati della vita contemporanea, mentre il riso di Tarasbulba è un riso allegro, quello che noi possiamo definire il riso omerico, il riso che deriva dalla armonia, dalla compattezza, dall'essere di questi uomini tutti d'un pezzo, che quindi si abbandonano a un'allegria sfrenata, come dei bambini, come degli scolari, dei bambini, degli adolescenti, anche quando non sono affatto adolescenti né bambini, vedete la regressione alle fasi primordiali dell'uomo, quindi non solo gli eroi di Omero, non solo le fasi precedenti della storia, le fasi barbariche, come epoche epiche, totali, integre, ma anche una sorta di infantilismo, vedere un orientamento verso la fase infantile dell'uomo, come più armonica, e vedremo infatti questa, e questo umorismo, la comicità, che è molto presente in Tarasbulba, e invece l'aspetto epico, guerresco, si fondano proprio nel personaggio di Tarasbulba, di Tarasbulba, dove si fondano eroismo e comicità, comicità vista come? Vista come semplicità d'animo. Spesso Tarasbulba agisce in modo che a noi sembra ingenuo, di una persona semplice d'animo, non è un uomo complesso, un uomo malizioso, non pensa troppo a quello che fa, agisce d'impulso, di istinto, quindi spesso agisce in modo ingenuo. Perché? Perché è uno tutto d'un pezzo. Per esempio, lui, a un certo punto, quando leggerete Tarasbulba, vedete che lui va a salvare l'amatissimo figlio Astap, che è finito prigioniero dei polacchi, che si apprestano a farlo morire sul patibolo, fra terribili torture, e vedete qui l'elemento gotico, horror, che lui prende anche alcune cose che aveva scritto precedentemente, proprio l'eroe martirizzato sul patibolo, poi vedremo, c'è anche molto l'elemento eucaristico in Tarasbulba, quindi l'idea del sacrificio cristologico dell'eroe, non solo di Ostap, ma poi dello stesso Taras, e Taras si va, come dire, in una missione segreta sotto falso nome a Varsavia per salvare il figlio, ma siccome una guardia sente una guardia che si esprime in modo sprezzante nei confronti dei cosacchi, lui le risponde dandogli del cane rognoso, e la guardia si insospettisce e lui deve battere in ritirata e il piano per salvare il figlio fallisce. Vedete cosa intendo quando parlo di comico ed eroico che si mescolano in questa figura? Oppure, alla fine di Tarasbulba, quando Taras deve fuggire all'accerchiamento dei polacchi, sta fuggendo, c'è quasi riuscito, ma gli cade la pipa, la sua amata pipa gli cade a terra e lui dice, la mia pipa non può finire in mano a questi cani polacchi, e si china a raccogliere la pipa e lo beccano, dopodiché naturalmente lo fanno a pezzi, come era assolutamente evidente che fosse. Ha in modo altrettanto immediato il riflesso spontaneo, senza pensarci sopra, senza arrovellarsi, addirittura senza manifestare emozioni di nessun tipo, lui compie degli atti di grandissima tragicità. Per esempio, dalla morte, lui con le sue mani a uno dei suoi figli che ha tradito. Purtroppo vi devo un po' spoilerare il testo, vi consiglio di leggerlo quanto prima, così almeno ve lo godete tutto in una volta, senza tutti i miei racconti e non vi devo fare... le spiegazioni che io faccio non si configurano come spoiler. Quindi, poi a un certo punto, l'ultima cosa che volevo dire sull'evoluzione, anche proprio dell'idea generale di Taras Bulba, noi tra la prima versione e la seconda, abbiamo un... c'è un testo di Gogol che appare proprio nello spazio temporale, sia fra il 35 e il 42, fra la prima e la seconda versione di Taras Bulba, che è un racconto molto particolare, che sta posto molto a sé nella produzione di Gogol, che si intitola Il Vii. Il Vii è un demone del folklore ucraino, un demone del folklore ucraino, nel quale, in questo racconto, Il Vii, Gogol sperimenta una... lui sperimenta sempre molto con gli stili, cerca sempre di mescolare ciò che in genere gli autori, tra virgolette, normali non mescolano mai, o si sforzano di non mescolare, ciò che per gli altri sarebbe una cacofonia. A lui piace, come vedrete, una chiave, per capire Gogol, è la chiave del contrasto, dell'antitesi, è un autore molto contrastivo, è una poetica molto contrastiva, che si nutre di contrasti spesso anche stridenti. Nel Vii si mescolano, in modo molto forte, l'elemento, diciamo, quotidiano della quotidianità, della vita quotidiana, il realismo della vita quotidiana, anche abbastanza abbassato, abbastanza comico, è l'elemento del fantastico, miracoloso, l'elemento fantastico. Infatti c'è una sorta di duello fra un giovane studente dell'accademia, si chiamava la Bursa, questa accademia di Kiev, dove i giovani, di famiglie, comunque, di una qualche possibilità economica andavano a studiare, naturalmente erano accademie ecclesiastiche, il protagonista è un giovanotto che sta tornando a casa dall'accademia e si trova, all'inizio è descritto proprio con particolari, molto, diciamo, quotidianità anche un po' comica, molto realistica, molto naturalistica, e a un certo punto si trova completamente invischiato in una storia di streghe, di sirene, deve battersi con questo demone che si chiama il Vii, tra l'altro con un erotismo anche molto forte nelle scene con la sirena, con la striga. Un'altra chiave per interpretare Gogol in generale, che appare molto spesso, è il suo rapporto molto conflittuale con la sfera, diciamo, dell'eros, del sesso. Era un uomo con una psiche molto particolare, la donna è quasi sempre considerata tentatrice, perditrice dell'uomo, del personaggio maschile, che svia il personaggio maschile, lo porta spesso fuori strada e lo porta alla rovina. È probabile che in questa difficoltà, questo malessere un po' di Gogol nei confronti dell'universo femminile si manifestassero anche aspetti, diciamo, specifici delle sue inclinazioni. Questo però noi non lo sappiamo con sicurezza. Non erano tempi in cui su queste cose si parlasse molto. Comunque, di queste cose si parlasse molto. Comunque, la sfera erotica per lui è sempre legata all'ansia, al malessere, alla sensazione di pericolo. Noi questa cosa la vedremo sia in senso proprio sia in senso a volte anche metaforico. Questa vi, ossia questa sperimentazione, questo esperimento nel mescolare, nel mettere insieme naturalismo quotidiano e elemento fantastico, fantastico in senso proprio magico, fantastico e demonologico, viene poi usato anche nella seconda versione di Taras Bulba, dove l'elemento magico in senso proprio non c'è, però viene molto rafforzato, diciamo, l'aspetto folclorico, fanta, folclorico, romantico, da una parte, e quello della quotidianità, scene, manifesto, descritto in senso, in modo molto naturalistico, dall'altra. Viene rafforzato l'elemento dei lati nottuvi, fantastico in questo senso, nel V, il fantastico, di tipo proprio demonologico, ma questa cosa in Taras Bulba viene filtrata e diventa il tema degli aspetti notturni dell'animo umano, gli aspetti notturni inquietanti della psiche umana in Taras Bulba, si potrebbe definire il motivo, l'elemento della coscienza notturna, naturalmente è una cosa che Gogol prende non solo dal folklore propriamente detto, ma anche dal romanticismo a lui contemporaneo. Abbiamo citato prima Walter Scott come chiaro esempio, come esempio ovvio di romanziere storico, per quanto riguarda invece la narrativa romantico, grottesco, inquietante, a livello internazionale, che nome si potrebbe fare? Vediamo se qualcuno mi dice qualcosa. Autore romantico di questo periodo, siamo prima a metà dell'Ottocento, dedito proprio a questo romanticismo magico, fantastico, grottesco. Walter Scott? Sì, Shelley, però Shelley non è un narratore, quindi... Ah no, ma tu intendevi la moglie con una cosa... Sì, no, è vero, hai ragione, però qui non è tanto la Shelley quanto Hoffman, Hoffman che è più presente a Gogol come modello, quindi l'idea dell'aspetto, del lato notturno dell'animo umano, sicuramente lui lo prende di lì. Io per oggi non andrei oltre nelle spiegazioni, ci sono ancora tante altre cose da dire, ma avremo sicuramente il tempo di farlo in seguito, magari leggerei qualcosa...